La serata più bella che tutti aspettano perché c'è un intento di cuore. Bianca Maria Lucibelli, raccontiamo la serata che stiamo per vivere e che in parte abbiamo già vissuto. Qualche parola? Parole poche, anche perché io abitualmente agisco ma non parlo, parlo molto poco. Devo ringraziare tutti gli amici, in particolare alcune persone del mio staff che mi hanno aiutata e tanto. L'idea può essere mia, però ci vuole chi ti aiuta da soli, non si va da nessuna parte. Però là dove tu vuoi andare arrivi, proprio perché dici che sei una persona pragmatica che deve arrivare allo scopo. Come si fa con la determinazione, con la tenacia? Ma con la dolcezza. Sì, me ne accorgo anch'io che riesco ad ottenere di più con la dolcezza. Cioè scavo i muri ma con dolcezza. Chiudiamo dicendo perché siamo qui stasera, lo diciamo ai nostri videoascoltatori. Siamo qui per raccogliere fondi, perché ogni mia manifestazione è per chi soffre, chi è meno fortunato di noi. Io lo sono, perché ho tanta salute, grazie a Dio. Ho tanta voglia di dare e spero di farlo ancora per tanti altri anni. E noi te lo auguriamo, tu sei una donna forte e determinata, ma anche molto dolce come hai ben detto. Ed è per questo che hai il tuo grande seguito, che ti segue in tutte le tue iniziative. Grazie. Grazie, grazie a te. Grazie a tutti, anzi. Grazie a tutti.